Vai! Oh, inizia prima io! No, no! Che roba hai trovato, mamma mia, che roba! Una formiglia! Una formiglia gigante! Una formiglia gigante! Non hai paura di toccare questa formiglia gigante? No, perché è normale, eh! Nonno! Vado io? Tu! Eh, si stacca di... Ah, no, calma! Ma che roba è il scorpione? Vieni qua, vieni! Uno scorpione! Tocca! 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 Sì! C'è qualcosa? Cosa hai trovato? Oh, Dio! Allora? Fammi vedere, dai! C'è qualcosa? Ti devo dare una mano? No! No! Eh? Che roba è l'ora? È un pipistrada! Un pipistrada piccolino! Vai, 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 vai! Che è? Lì si è asciuta la pisse, coppa tutto, cattoloso! Vieni, che scherzi sta fatto? Cagliato! Allora? Poi? Vediamo che scherzi mi avete fatto! Papà! 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 Aia! Non c'è più niente, appunto? Papà! Qual è? Un'altra serpente! Ha po'! Un'altra serpente! E poi? Aspetta! Dove lei va? Che roba è qua? Prima è un ragione! e poi non bruciarmi c'entra pure nella vasca e poi ci faccio qualche cosa un altro stupendo, mamma mia guardami se tu guarda i cartelli dopo facciamo un cambio di cose e poi non c'è niente più io non ho intanto ancora qui